Si chiama Nausicaa II. È la nuova BOA che i tecnici di Arpa Emilia-Romagna hanno posizionato in mare mercoledì mattina a largo di Cesenatico. È il primo di una serie di interventi volti a potenziare il sistema di monitoraggio del mare adriatico per l'adattamento della costa ai cambiamenti climatici. La BOA misura tutti i parametri del moto ondoso, la temperatura superficiale dell'acqua, la temperatura dell'aria e le correnti superficiali. Il progetto fa parte di AdriaClim, un programma sviluppato in cooperazione con la Croazia che ha come obiettivo l'aggiornamento e lo sviluppo dei piani di adattamento per fronteggiare eventi estremi e futuri scenari climatici nell'area adriatica. Il nostro mare è infatti particolarmente sensibile a cambiamenti climatici come ad esempio l'aumento della temperatura e l'aumento del livello dell'acqua. Si prevede che entro il 2025 ci sarà un incremento di 7 cm con un considerevole aumento dell'erosione costiera. La regione Emilia-Romagna ha già stanziato 7 milioni di euro di fondi per interventi di manutenzione dal 2021 al 2023 e si prevedono ulteriori investimenti in futuro. AdriaClim anche in questo interviene attraverso un rafforzamento dei sistemi di misura e di monitoraggio della costa. Tant'è che in altri progetti poi sempre europei, grazie ai fondi europei, andremo a installare delle stazioni mariografiche, delle stazioni di qualità dell'acqua e creeremo anche una rete webcam costiera che ci permetterà proprio di mantenere sempre osservate e monitorate anche durante gli eventi estremi e quindi fenomeni meteomanieri estremi che cosa succede lungo il litorale e quali sono poi le conseguenze di questi eventi.